La ragazza da sola nel campus. Ciao Ilan, ci senti? Ciao, buonasera. Questo è il miracolo di Skype che è incredibile, che ci permette... Come va? Ma bene, bene. Più che altro il miracolo del BPL, non vorrei dire. Ecco, brava. Certo. E non spieghiamo troppo ai telespettatori. Comunque è un sistema per poterti vedere saltando, diciamo, i... Sì, ma ce l'hanno tutti, non è che sia... I filtri che ci sono. Ce l'hanno tutti in Cina. Senti, è l'alba lì, giusto? E cosa vedi tu fuori? Sì, sono esattamente le sette e un quarto, sì. Cosa c'è lì fuori? Quello che vedo ogni giorno, nessuno, desolazione. Almeno per quel che riguarda qui, nel campus, certo. Ma quando torneranno le persone nel tuo campus? Eh, questa è una bella domanda, perché in realtà lo stesso direttore dell'istituto e, insomma, tutto il consiglio dei docenti non sanno, perché devono ancora ottenere istruzioni da parte delle autorità locali. Sicuramente per febbraio non se ne parla, parleremo di marzo, ma tutto dipende dalle volverse della situazione. Ma tu come ti senti? Tutto il giorno che fai? Eh, ma, insomma, passo le mie giornate in maniera abbastanza monotona. Ci si alza, si mangia, si guarda qualche serie. Ho la fortuna, appunto, di avere la pista atletica, avete visto nel servizio, per cui mi concedo quell'ora di jogging e sport all'aria aperta per poi tornare. Poi un'altra cosa carina che ho iniziato a fare è quello di mantenere aggiornati, insomma, i miei amici e chi mi segue nei social, per cui, insomma, le giornate tutto sommato passano. Cioè non incontri mai nessuno, però, proprio fisicamente? No, no, fisicamente no, non ho alcun... Senti, ma io qua c'ho il vice ministro della sanità che sta per partire con l'aereo, non è che ti dico se passa, si allunga lì e ti passa a prendere anche a te, perché... Vuoi tornare a casa? Vuoi tornare in Italia, no? In realtà, pur volendo, non potrei in un momento come questo, perché non ho il passaporto a portata di mano. Cioè la cosa curiosa è che il passaporto adesso è l'amministrazione, quindi l'ufficio stranieri per il visto, che è in una città proprio vicinissima alla mia, però nel contempo non posso uscire dalla mia città, perché l'ordinanza delle autorità locali è quello di non abbandonare, cioè non si può uscire dalla mia città. Cioè per quanto non ci siano quarantene come quella a Wuhan, di fatto anche le città della mia provincia sono tutte in una sorta di quarantena, perché data l'emergenza non consentono di entrare, riuscire, quindi varcare i confini, se non per lo sito necessario. Quindi sei sola e senza passaporto. Vabbè, comunque, mandaci un segnale nel caso veramente noi mandiamo il ministro, il viceministro in qualche maniera. Non so, ma voi siete al corrente della situazione di questa nostra connazionale. A meno non io, non la sua in particolare. Nel caso uno si mette in contatto, come sono le autorità cinesi? Molto collaboranti. Molto collaboranti. Molto collaboranti. Molto collaboranti. Molto collaboranti. Grazie.